Emma Marrone, conosciuta anche come Emma, pseudonimo di Emanuela Marrone, è una cantautrice italiana. Vincitrice del Festival di Sanremo 2012 con il brano Non è l'inferno. Non se l'aspettava affatto. Emma Marrone, che il suo settimo album, In Studio, avrebbe racimolato un successo di pubblico a tal punto clamoroso. Una carriera intrisa di successi, quella della Salentina, nell'ambito della quale la pubblicazione di Souvenir non avrebbe potuto che essere la ciliegina sulla torta. E di motivi per sorridere. La classe 1984 parrebbe averne moltissimi. Grazie alla collaborazione dei suoi ascoltatori, che ne hanno acquisite svariate copie l'album della cantante è stato certificato disco d'oro dalla Fimi. Grazie a tutti. Grazie perché amate questo disco. È il ringraziamento che una commossa ed ancora incredula Emma Marrone ha fatto arrivare tramite le stories ai fan di Instagram, ai quali non ha mancato di dedicare il disco d'oro ottenuto con Souvenir. Il merito è vostro. A ridosso dell'esperienza sanremese, per la Salentina i riconoscimenti continuano a sprecarsi. Nulla, da 14 anni, a questa parte, sembrerebbe in grado di arrestare la brillante carriera intrapresa dall'artista lanciata da amici.